Ragazzi buongiorno da Norcia, siamo qui al Salsicciadei, stiamo mettendo i bavaglini a tutte queste belle ragazze per far iniziare la nostra meravigliosa manifestazione. Noi non ci fermiamo un secondo e siamo sempre operativi. Eccoci, allora adesso mettiti in fila, vedete con noi. Qui ci sono tutti quanti le persone che si stanno mettendo in fila per portare la salsiccia più lunga. Vi facciamo vedere quello che stanno facendo, come potete vedere guardate quanta gente c'è pronta per la salsiccia dai nostri massi artigiani che sono pronti. Sono tutti qui pronti per iniziare a inzaccare la carne e fare la salsiccia più lunga del mondo. La salsiccia più lunga del mondo che parte da Norcia è simbolica perché vuol far vedere come la nostra terra non si è mai fermata. Non stiamo ripartendo perché noi non ci siamo mai fermati. Quindi siamo operativi. Abbiamo il nostro giudice internazionale che verificherà la lunghezza di queste salsicce. Guardate i nostri amici Norcini che stanno preparando la salsiccia. Guardate la gente, guardate i locali delocalizzati di Norcia che non hanno più un posto dove stare ma sono tutti quanti chi da noi. Ci sono i ragazzi del Salsarello che agliederanno la giornata con un po' di folklore. Da quest'altra parte ci sono i ristoranti delocalizzati. Grazie da Norcia, un abbraccio. Grazie da Norcia, un abbraccio. Grazie da Norcia, un abbraccio. Grazie da Norcia. Grazie da Norcia. Grazie da Norcia. Grazie da Norcia.